Ciao ragazzi, vediamo un altro short su come piantare le patate. Prima cosa, la patata deve essere certificata, questa è la sua garanzia con l'indicatore di qualità. Dopo aver realizzato un solco, adagiatele a terra. Il germoglio mi raccomando che guarda sempre verso il cielo. Una o due per postarella e poi ricoprite con la terra di riporto. Altro metodo, potete tagliarla a metà, in questo modo. Fate attenzione di avere germogli da una parte e germogli dall'altra, qui è piccolissimo. La parte, questa qui, deve asciugare come minimo due giorni all'aria per formare una reticola protettiva che la proteggerà da funghi e altre malattie. Chiaramente questo è per ottimizzare la produzione.